Anticipazioni Endless Love, quello che vedrai nelle prossime puntate ti lascerà senza parole. Emir sta consegnando una valigetta con del denaro a Reshat. Vuole farlo partire dopo che ha tradito Kemal. Contemporaneamente, Galip, che ha accettato di essere complice del figlio per inscenare il proprio rapimento, si fa trovare da Kemal nel magazzino di Zahir utilizzato come finta location dei sequestratori. Intanto, Nihan si è fatta accompagnare in un magazzino dove sta avvenendo l'incontro tra Emir e Reshat. Inavvertitamente fa un rumore e mette sull'avviso i due uomini che cominciano a cercarla. Per nascondersi si rifugia nella ghiacciaia. Nihan è bloccata dentro, comincia ad andare in ipotermia e chiama al telefono Kemal. Kemal riceve la chiamata mentre è messo alle strette da Galip e la polizia sta arrivando sul posto. Invece di restare per provare a discolparsi, Kemal decide di scappare per andare a salvare Nihan. Prima di continuare, se vorresti ricevere in anteprima le nuove anticipazioni di Endless Love, scrivi sì nei commenti. Riprendiamo! Intanto, Asu decide di suicidarsi per essere stata abbandonata ancora una volta da Kemal e chiama, senza risposta, sia Nihan che Kemal. Nihan riceve una telefonata di Emir mentre è in clinica con Kemal, dopo avere soccorso Asu. È costretta a rivelargli il nome della clinica dove si trovano e così Emir avverte la polizia, che irrompe in ospedale per catturare Kemal ma senza successo, l'uomo è già fuggito. Kemal e Zeir ricostruiscono il meccanismo della trappola che ha incastrato Kemal. I loro nemici hanno falsificato in qualche modo la firma di Zeir, intestandogli il magazzino dove era nascosto Galip. Kemal si rifugia da Ayyan e Nihan, preoccupata per lui, lo raggiunge insieme a Leila, per convincerlo a usare la registrazione che lo scagionerebbe. Kemal però si rifiuta. Se lo facesse, esporrebbe Nihan ha un pericolo enorme e comunque ha in mente un altro piano per salvarsi. Galip suggerisce alla polizia di cercare Kemal da Ayyan. Zeynep, mentre si trova nella centrale di polizia, sente che la polizia farà irruzione nel luogo dove è nascosto suo fratello. Mentre si nascondono nel deposito di Ayyan, Kemal confessa a Nihan che sarebbe voluto fuggire insieme a lei per costruire una famiglia. Nihan, pur promettendogli di rimanere al suo fianco, lo spinge a riflettere sull'amore che Asu prova per lui. Nel frattempo, Zeynep giunge in ospedale e vede Emir parlare con Asu, il che la spinge a credere che i due abbiano una relazione clandestina. Così minaccia Emir di raccontare tutto. Emir però, le FA, intendere che conosce la verità sulla morte di Ozan e la costringe al silenzio. Kemal minaccia Akan di far pubblicare un articolo compromettente se il commissario non gili fornirà i filmati del finto rapimento di Galip. Entrato in possesso dei filmati, Kemal individua uno dei finti rapitori e, con l'aiuto di Zeyhir e Ayyan, lo costringe con le cattive a confessare la verità alla polizia così da poter essere scagionato. Inoltre, su consiglio di Nihan, Fehime minaccia Emir di rivelare la verità su Deniz se l'uomo non ritirerà le accuse. Emir mette alla prova Nihan perché sospetta che tra lei e Kemal ci sia di nuovo qualcosa. Tra Leila e Ayyan c'è sempre più confidenza. Per lui ogni pretesto è buono per andare a trovarla e sembra che lei inizi a gradire queste attenzioni. Zeyhir e l'avvocato di Kemal incastrano gli uomini che hanno inscenato il rapimento di Kemal e li costringono a confessare che è stata una montatura. Hakann comunica a Emir che non può far altro che chiudere le indagini e archiviare il caso. Assu è in convalescenza ma deve subire le continue insinuazioni di Zeynep. Kemal si reca finalmente a trovarla, inizialmente è fermo sulle sue posizioni ma prima di andarsene le lascia intendere che c'è una possibilità che tornino insieme. Prima di andar via Kemal vede la stessa borsa che aveva notato in casa di Tufan e chiede a Leila di indagare per capire quanti pezzi uguali sono stati venduti in città. Se vorresti il continuo della storia scrivi sì nei commenti.